Qual è la gestione ospedaliera del paziente dopo un trauma? L'obiettivo è concentrarsi sulla fisiopatologia piuttosto che sull'anatomia. Ci spiega il concetto? Come dicevo durante il mio intervento, la mortalità è correlata all'emorragia. Quindi il concetto di fondo è quello di cercare di ottenere il fatto che la fisiopatologia, cioè quindi questa perdita emorragica, venga corretta. Poi la continuità anatomica, anche di organi importanti, come l'intestino, si può ottenere in un secondo momento magari quando il malato dal punto di vista fisiopatologico e quindi della correzione dell'emorragia sia poi stata ottenuta in maniera ottimale. Se non hai il malato che sopravvive all'emorragia iniziale è inutile poi avere delle continuità intestinali o delle ricostruzioni di segmenti ossei che presumibilmente il paziente poi non userà e non potrà usare. Ipotensione, ipotermia, coagulopatia sono diversi problemi da gestire insieme. Come vengono gestiti? Questi tre problemi fanno parte proprio di questo concetto che è stato identificato fin dagli anni 80 come la triade letale perché è come un circolo vizioso per cui questi tre problemi si aumentano l'uno con l'altro. Quindi bisogna proprio avere una strategia che si inserisca a cuneo in uno dei punti o ancora meglio in tutti e tre i punti per cercare di interrompere questo circolo vizioso perché il circolo vizioso porta inevitabilmente a un peggioramento progressivo delle condizioni del malato e quindi chiaramente al decesso. Ci vuole una strategia che è una strategia assolutamente, come dicevo, multidisciplinare. Non è più pensabile che questo tipo di malati vengano affrontati da un uomo solo al comando. Ci sono una serie di specificità e anche di expertise che vanno uniti per appunto influenzare e prendersi in carico di tutte quelle problematiche che in un qualche modo hai elencato. Si parlava di due cose, di trauma team e di sala operatoria ibrida. E' questo il futuro? Più che il futuro è già il presente. Quello del trauma team è assolutamente il presente perché la maggior parte dei trauma center nel mondo, sicuramente quelli più avanzati, non hanno un trauma team che si forma, quindi una serie di colleghi, il rianimatore, il chirurgo, il medico d'urgenza, l'ortopedico, il radiologo d'urgenza, il radiologo interventista. Fanno parte di un'equipe che si coagula nel momento addirittura in cui arriva il messaggio che arriverà un paziente di quel tipo, soprattutto se il paziente è un paziente malinarnese e quindi quella è già una risposta assodata. Le sale ibride, quindi le sale in cui vari specialisti, il chirurgo generale ma anche altri specialisti chirurghi ma soprattutto gli endovascolari, quindi possono essere radiologi o chirurghi vascolari che operano dall'interno appunto dei vasi, in questo caso ci sono anche delle restrizioni organizzative e anche finanziarie. Una sala ibrida, se uno non la possiede, per crearla e per comprarla ha un costo che non è un costo affrontabile da qualsiasi struttura sanitaria. Bisogna quindi anche lì cercare di capire dove concentrare chiaramente nei centri ad altro volume anche queste risorse che sono risorse molto costose.